Fermatevi bastanti, sento le vibrazioni. Tu tieni la crittonite dentro all'aborso. Mio marito vi tradisce. Questa è una cosa molto grave per lei? È certo che è grave. Scusa, ma non è facile uscire così. E poi c'è Peppino. Ma al finale sei veramente Superman. Eh sì, sono Superman. Ma tu non puoi aiutare mia mamma che non si sente mai bene. Eh no, io quel potere là non lo tengo. Il padre lavora, la mamma sta sempre dentro all'ente. Ma allora scusate, questo bambino a chi lo diamo? Io non ce lo posso abbatare, perché io studio. Però Titino e Salvatore non devono che fare. Non è strano che Zia Salvatore si trucca. Peppino, è strano e bello. È la nota. Ma papà, ma tu non vieni. No, è per bambino. Senti, non lo fare scendere finché torno, eh. Devo fare qualcosa, lo devo fare sfagare a quel bambino. Bambino! Lo vuoi fare ad un giro? Io devo essere libera di scegliere. Per scegliere devo provare. Questo percorso individuale tuo, precisamente, quanto è diverso dal percorso di una zoccola? Scusate! Io non è che posso correre sempre appresso a te. La vita è più forte della morte. È caduto. Quello si è buttato.